Acido folico in gravidanza. A cosa serve? Quanto assumerne? Per quanto tempo? Cosa succede se non prendo l'acido folico in gravidanza? Quando iniziare a prendere l'acido folico in gravidanza o prima? In quale momento della giornata prenderlo? E quali potrebbero essere gli eventuali effetti collaterali dell'acido folico? Insomma, qualsiasi cosa, un trattato completo su acido folico a cura della nostra super ostetrica. Prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matto Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi e di un terzo in arrivo ed ostetrica. Accompagno le donne lungo tutto il percorso nascita. E anche autrici di alcuni fantastici videocorsi come il primo videocorso preparto multidisciplinare, il videocorso all'attamento, il videocorso sul perineo in gravidanza e nel postparto e tantissimo altro che trovate nei nostri siti web dottorsilla.com e mattosilvastopata.com insieme ad altre decine di videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora entriamo nel vivo dell'azione Mary, quindi acido folico, cos'è e a cosa serve? Acido folico, ma lo dobbiamo sempre prendere indicato per tutte le donne? Sì, in realtà l'acido folico fa parte delle pochissime supplementazioni sempre indicate, cioè per tutte le donne. La cosa importante è non solo assumerne all'inizio della gravidanza, ma addirittura prima. Idealmente dal mese prima dell'inizio della gravidanza e per tutto il primo trimestre, quindi le prime 12 settimane. Quindi se state programmando una gravidanza o se non escludete la possibilità di una gravidanza, è iniziata ad assumere acido folico. È una vitamina del complesso B, quindi va bene, è un supplemento vitaminico, anche se lo prenderete per alcuni mesi non succederà nulla di male. A che cosa serve e perché è così importante? Ci sono tantissime campagne per creare cultura in questo senso, perché ancora in Italia sono troppo poche le donne che lo prendono correttamente, quindi da prima della gravidanza e per tutto il primo trimestre. L'acido folico è una vitamina appunto del gruppo B che entra in tutto il gioco della corretta formazione del tubo neurale del bambino in utero. Paroloni, cioè permette che lo spazio che contiene il suo midollo al centro della colonna vertebrale si crei e si chiuda correttamente. Il fatto di assumere correttamente e quotidianamente l'acido folico correla con una diminuzione dei difetti di chiusura del tubo neurale fino al 90%. Quindi è una semplice vitamina che però ha importantissimi effetti sulla salute del vostro bambino. Ma la dobbiamo prendere solo sintetica? Ovviamente no. Un corretto regime alimentare soprattutto pre e inizio gravidanza è fondamentale per avere un buon apporto di acido folico. Nel corso dedicato con la nutrizionista sull'alimentazione in gravidanza scoprirete nel dettaglio molte cose, ma intanto vi voglio dire che ci sono tantissimi alimenti molto ricchi di acido folico di cui dobbiamo fare grande uso in questo periodo della nostra vita, che possono essere gli spinaci, gli asparagi, tutti i carboidrati integrali, quindi pane, pasta integrali, lievito di birra. Ecco, con queste attenzioni già immaginate che il vostro apporto di acido folico sia molto buono. Comunque andrete in ogni caso a supplementarlo con quello sintetico. Fantastico. Altre due domande erano In quale momento della giornata è consigliato prendere l'acido folico e se ci sono degli effetti collaterali? Sì, allora non c'è indicazione specifica su prima, dopo il pasto, mattina, pomeriggio. Ovviamente una distribuzione giornaliera più o meno simile, per cui che lo prendiate al mattino e lo prenderete sempre al mattino, in modo tale da avere più o meno una copertura costante. Non ci sono particolari effetti collaterali, a meno che noi non eccediamo ma davvero tanto nelle dosi, e quindi devo dire che li vediamo proprio raramente. Quasi mai. Benissimo. Grazie mille Mary, sei stata super super esaustiva. È stato un piacere creare questi contenuti informativi per voi. Vi chiediamo di lasciare un like a questo video. Venite a trovarci nei nostri siti web con il videocorso Preparto Multidisciplinare, il videocorso Allattamento e tantissimo altro. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!